ti piace la salsiccia? ti piace? come cruda o cotta? dura? è così a sire, bella salsicchigna chi? salsicchigna ma come fa non piacerti le salsicce? ma cosa hai detto che non mi piace? a me mi piace ma che stai a mangiare tu però? e dopo c'è un guindo che ducchi un motante